Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi cosa ho letto da aprile a giugno, di cui tre sono sul Kindle, in ebook. Parto subito da quei tre che ho letto sul Kindle. Uno è Twins, questo qua, di Teresa Verde. Poi ho letto La Casa dei Sette Punti di Mauro Corona, questo qui. E poi, sempre qua sul Kindle, ho letto Natura Matrigna di Bellard Richman, che è questo qua. Sono tutti e tre dei mini libri, perché uno è un racconto e l'altro sono due libri che arrivano neanche a cento pagine. Poi, adesso vi faccio vedere il resto, vi mostro i manga che ho letto. E ho letto Dear Girl from the Other Side, questo qui, di Nagave, della casa editrice J-Pop. E dietro c'è scritto, vivendo tra due mondi, in contrasto, il maestro e Shiva hanno intrapreso un cammino pieno di avversità. Ma anche durante quel viaggio sofferto ci sono stati giorni luminosi, attimi tascorsi serenità in mezzo alla tempesta. Giorni in cui accade solo la vita, giorni di ordinaria normalità. Perché questo è un libro extra alla serie di, appunto, Girl from the Other Side, che in totale sono 11 volumi. Poi, ho letto il quinto volume di Shadows House, di Somato, edito sempre dalla J-Pop. E ogni manga ha dentro una card. Poi, ho letto l'ultimo volume di From the Red Fog, di Mosai Noire, in totale sono 5 volumi. E dietro c'è scritto, Miranda ha protetto suo figlio, Rwanda, a corso della propria vita. Il trauma di aver conosciuto il vero amore per la vita, per la prima volta in vita sua, e di aver contemporaneamente perso sua madre, lascia nel cuore del ragazzo un vuoto incolmabile. Nel frattempo a Londra si verifica un brutale serie di vicini, e dopo esserne venuto a conoscenza, Rwanda decide di recarsi in città con un obiettivo. Comunque, questo. E poi, una serie di quattro volumi, cioè Pocky e Kuro. Il primo volume è questo qui, edito dalla Star Comics, e l'autore è Naoya Matsumoto. Dietro è fatto così. Poi, questo è il volume 2. Poi, il volume 3. E dietro è fatto così. E il numero 4. Poi, passando invece agli ultimi tre, sono tutte e tre libri. Cioè, il manga ve l'ho finito di farveli vedere, adesso passo agli altri. e uno è Tre insoliti diletti di Matteo Strucco, questo in pratica l'ho letto in un giorno. Ed è lo stesso autore della serie I Medici, edito dalla Newton Compton. Qua c'è scritto, 1199, è la Vigiliera della Festa di San Nicola, e Caspar Trevi, Cavaliere Templare, viene convocato dal reggente del Regno di Sicilia, in visita a Bari, per assistere ai festeggiamenti. All'alba, un uomo è stato trovato ai merri della fortezza. Si tratta di Giuseppe Filangeri, un tempo consigliere della defunta, reggiera Costanze di Altavilla. Comunque, questo libro lo consiglio e mi è piaciuto. Questo è il primo libro che leggo di questo autore qua. Poi, ho qui Luoghi letterali di Sarah Baxter, in pratica è una guida per viaggiatori ispirati. In pratica ci sono 25 luoghi dove sono stati ambientati diversi diversi autori, diversi libri tipo La Montagna Incantata ad Avos o L'Abbazia di Northanger e Persuasione a Bath oppure l'avventura di Uncle Barry fin al fiume Mississippi o l'ultimo che vi dico è La Casa degli Spiriti in Cile ed è anche illustrato al suo interno. Ci sono ogni ogni città e paese comunque ha un'illustrazione. e l'ultimo che vi mostro che recentemente ho fatto anche una media recensione su qua e anche su Instagram è questo La Voce degli Spiriti storie dei luoghi più impensati del mondo del pit. In pratica qua racchiude alcuni luoghi dove sono andati loro a indagare e con alcune scene inedite e in più scrivono dei luoghi in cui vogliono andare a visitare e luoghi che vorrebbero visitare ma che non si può edito dalla Sperling e Caffè Con questo concludo il video spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo